Che bellissima Sansa Io preferisco sto audio, senti? Ho detto arrotolato per difetto Io non arrotondo perché io sono quadrato Aiuto Ti frego Soprattutto se lo merito Sì Dani E vabbè Gianluca E' un po' Faccio un po' E' 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 un po' L'occhio Sto continuando un gioco ...dalle quelle nere... ...sciade! ...e come cosa succede? No, ho incastrato il cubo... ...sulla porta Dove ha incastrato il cubo? ...la cocotte! ... ...tu sei uno stronzo... ...no, non è vero, tu sei uno stronzo... ...no, no, è vero, sono uno stronzo, sì, tu sei uno stronzo... ...bravo! Luca, un'idea... ...2 persone che si incontrano in real life... ...della storia di Gidita fanno... ...30 minuti fanno livello e 30 minuti si picchiano a sangue in un ring... ...se uno... ...se uno dei due... ...cade a terra morto... ...o finisce il live... ...a cade a terra morto o muore... ...se uno finisce il livello dei... ...30 minuti vi vince... ...mi piace così la, non la voglio... ...ha Gkaka... ...no... ...Ca Gkaka... ! Meglio chiamare Sol... ...non ce l'avete Solaret, ma poi facò... ...cono relationships.. c.. ... இ... Sono finito Jeffreeca buona Che è poi Jeffreeca? Sì? Che è successo? Gianluca vai schifo, vai schifo Dai che povera è stato soffrede Che cascola già? Io L'ho fatta letteralmente solo io e il mio compagno Gli altri non hanno fatto un cazzo No ragazzi come dice il detto Dovremmo essere in cinque Come dice il detto Come dice il detto ogni gatta vuole il sonaglio Raga sono andato a Roma per sbaglio Volevo vedere Gianluca che è le pistole quindi guarda la stream di Bob Ah di Bob lì? No ma io vado in stream sono tui Ok Volevo vedere quella di Lore ma è esplosa perché tipo in 3 milioni di P 800 fps perché boh Allora se riesco a fare 4200 piscio in call Va bene Gianluca? No No? Non va bene? Ma mi è caduto il meccanico Tu mentre parli di cultura generale di Napoli Eh Aspetta Aspetta 6 5 5 7 1 E si fa con quello Alex 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 Tanto il tempo lo devo lasciar vincere Nico perché me l'avete imposto Ma perché? Quindi Ma chi ha detto sta cazzella scusami Io Alex si è pagato da so Alex 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 Cacca un pro non le vado all'esterno Vabbè ok Adio Alex Ciao Alex Ciao Alex Comunque questa scritta Già sei introvato minchio Yes In Bologna Chi di spada ferisce poi il nucleo Eh Secondo me vince Si potrebbe andare Ma solo nella percentuale di te Vuse caffè Vuse te Vuse vide Vuse Flambè Vuse me contro te V-me contro me contro caffè Il tè contro tè Che cazzo tè? Ok Cosa? Ragazzi qualcosa mi dice che sta laggando Congratulatio For beating your level rated Ma tua madre No perché poi dopo Quando sono fatti gli RL Sono fatti meglio Ti fa così ridere Ma cos'è sto telefono Ma cos'è sto telefono Ok Ok Sì Anna, però senza gin, senza o perché? Dani, sei la gamba Chi sta? Miau, non ce la togliete, vieni a capire Che sta parlando giapponese? Io padre Mi chavo Mi chavo Mi chavo